Gli sabienti balneari ricordiamo sono garanti di avere in gestione un bene dello Stato, quindi uno sabimento balneare deve essere paragonato ad una chiesa, deve essere un posto dove chiunque entra e chiunque esercia si deve sentire tranquillo che lì esiste lo Stato. Così il presidente di Federbalneari Salento rispetto all'inquietante esito dell'operazione Network che nei giorni scorsi ha squarciato il velo sulle infiltrazioni criminali cui sarebbero stati soggetti gli sabedimenti del versante adriatico, costretti a versare il pizzo a gruppi malabitosi. Per questo l'associazione ha convocato un incontro a Gallipoli per discutere di una serie di proposte che mettano il settore al riparo, prima fra tutte la sottoscrizione della tessera anti-racket. Quindi abbiamo ritenuto di inserire all'interno del nostro statuto una variante che oggi l'Assemblea all'unanimità ha accettato, quindi gli stessi imprenditori balneari, di essere iscritto ad un'associazione anti-racket. Ovviamente è fondamentale perché questi tipi di associazioni, le più vaste, le più note anche nel territorio nazionale, hanno le competenze per ascoltare ed eventualmente affiancare le problematiche di questa natura anche degli imprenditori balneari. Un modo per togliere ogni alibi a possibili connivenza degli imprenditori, che così avrebbero uno strumento diretto di difesa, appena l'esclusione dalla categoria. Poi necessaria la regolamentazione dei servizi di parcheggio e guardiania, più permeabili alle infiltrazioni criminali. A seguire, la fede balneari con le altre associazioni di categoria ha chiesto al prefetto un protocollo d'intesa, dove all'interno di una white list saranno monitorati stabilimenti e fornitori di servizi. La sigla avverrà nei prossimi giorni.